Buongiorno a tutti, sono il dottor Acciaro, sono il partner dello studio Acciaro e Associati, è un'associazione di professionisti che si occupa in maniera praticamente completa della crisi d'impresa e le soluzioni della stessa. Con queste videopillole vogliamo, con l'aiuto dei colleghi di studio, il dottor Turchi e il dottor Aliprandi, fornire alcuni elementi di riflessione e qualche dettaglio su quella che è la rivoluzione in atto, una rivoluzione culturale sociale ma anche legislativa proposta dal nuovo codice della crisi. Il lavoro che ci proponiamo di fare, seppur estremamente sintetico e sommario, è quello di distribuire in cinque videopillole una panoramica d'insieme. Una prima videopillola proverà a dare un quadro d'insieme dello scenario proposto dal codice della crisi e soprattutto gli stimoli che lo stesso impone al sistema economico in generale, quindi agli imprenditori e ai professionisti, a tutte le categorie, compreso i giuristi. Per poi passare la parola con tre videopillole ai colleghi e soci dello studio Turchi Aliprandi che affronteranno il delicato problema degli adeguati assetti. Per poi ritornare su di me e sul collega Turchi in un dialogo serrato, un approfondimento un po' più tecnico, un po' più di dettaglio sui singoli strumenti di regolazione della crisi proposti dal nuovo codice. Fatta questa premessa insieme, a mio avviso un primo elemento da mettere in evidenza in maniera chiara e nitida è che il nuovo codice della crisi sostituisce e manda definitivamente in pensione la ormai logora legge fallimentare e quindi è su di esso che si stanno riponendo tutte le aspettative per le soluzioni delle future crisi aziendali. Un codice che nasce in un momento molto particolare, che è entrato in vigore il 15 luglio dello scorso anno e che contiene una rivoluzione paradigmatica dell'approccio all'avvicinamento della crisi degli imprenditori e al suo superamento in termini di risanamento e o in maniera un po' più forte in termini di ristrutturazione del debito. In estrema sintesi qual è il fil rouge, qual è l'architrave sul quale si poggia il codice della crisi? L'architrave è sostanzialmente l'emersione anticipata della crisi finché l'emersione anticipata consenta di dare una risposta immediata e tempestiva per la propria risoluzione. Si parte dal presupposto che una crisi intercettata per tempo ha probabilità di soluzioni molto più alte rispetto a una crisi intercettata in ritardo, in quanto la crisi intercettata in ritardo si porta a considerare tutto un insieme di problematiche di risvolti di carattere finanziario molto più complesse rispetto a una crisi anticipata. E quindi da questo presupposto il legislatore nel codice della crisi pone tutto un insieme di istituti volti all'intercettazione della crisi preventiva e addirittura alcuni doveri nuovi posti in capo agli imprenditori affinché questi doveri abbiano l'obiettivo di stimolare l'imprenditore a intercettare per tempo la crisi. I doveri sono stati licenziati all'opinione pubblica come adeguati assetti organizzativi, contabili e amministrativi, quello che è l'ormai noto nuovo articolo 2086 del codice civile e nonostante se ne parli molto, a mio avviso l'importanza è andarla a inquadrare all'interno dell'architrave del codice e quindi nella pretesa, nell'auspicato desiderio del legislatore di fare in modo che l'imprenditore nell'alliempimento dei suoi doveri di gestione dell'impresa tenga anche in considerazione di doveri specifici volti a controllare le problematiche di crisi e a farle emergere con tempestività. Ci sono a fianco a questo primo momento volto all'emersione della crisi tutto un altro insieme di istituti un po' più tecnici contenuti nel codice della crisi che sono poi il sistema delle segnalazioni, cioè quell'apparato normativo che ripone in capo a quei soggetti più vicini agli imprenditori che sono l'organo di controllo o i creditori qualificati, tutto un insieme di doveri, di regole, di dialogo volte a stimolare anche dal loro conto un atteggiamento, una condotta proattiva dell'imprenditore volta a superare o a far emergere la crisi. Ovviamente questa architrave, emersione anticipata dalla crisi, impone, ed è questa la risposta che poi il curice nel titolo secondo, terzo, quarto ha dato, che sono anche gli strumenti di soluzione, quindi una volta che la crisi emerge bisogna avere anche tutti gli strumenti volti al superamento della crisi emersa e quindi da lì tutto un insieme di strumenti che avremo modo di descrivere nelle pillole successive. Prima di lasciarvi però consentitemi un passaggio su un istituto nuovo che rientra all'interno degli istituti nuovi, nuovissimi, di nuovo colio previsti dal legislatore per dare risposta all'emersione anticipata della crisi, che è la famosa composizione negoziata. È un percorso nuovo, è un percorso che addirittura trova le sue condizioni di accesso non nella crisi, ma in qualche cosa che c'è prima, cioè un concetto di squilibrio, uno squilibrio economico, finanziario e o patrimoniale, è così che parla il legislatore all'interno del codice. La composizione negoziata è secondo me un percorso nuovo, inedito, che dovrà essere ovviamente declinato dalla giurisprudenza e delle applicazioni pratiche e che però, in forza del fatto che trova un suo momento di genesi, un suo momento di attivazione in un fenomeno economico-aziendale che è antecedente rispetto all'emersione della crisi, a far emergere in maniera chiara e nitida la volontà del legislatore del codice della crisi di stimolare gli imprenditori a far emergere non solo la crisi, ma addirittura fenomeni di difficoltà che sono premonitori di un fenomeno di crisi. Io vi lascio ai miei cari e validi soci di studio che in maniera tecnica affronteranno anche altri problemi relativi agli adeguati stati che secondo me sono la chiave di lettura di tutto il codice. Grazie dottor Acciaro, buongiorno a tutti, sono il dottor Alessandro Turchi, socio dello studio Acciaro. Nell'ottica di contestualizzare le successive pillole in continuità rispetto a quanto ha già affermato il dottor Acciaro, mi soffermo sul 2086 secondo comma. Uno degli aspetti principali del codice della crisi, tanto da essere in vigore già dal 16 marzo del 2019, è proprio questo nuovo secondo comma dell'articolo 2086 che pone in capo agli imprenditori il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sia adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. Con l'entrata in vigore del terzo definitivo del codice della crisi, questo 2086 ha iniziato anche a prendere forma, tant'è che l'articolo 3 del codice della crisi permette di delineare il contenuto e le funzioni degli adeguati assetti, specificando che gli stessi debbano consentire per esempio di rilevare gli squilibri economico-patrimoniale e finanziari che in precedenza esaminava il dottor Acciaro con riferimento alla composizione negoziata e a rilevare la capacità dell'impresa di sostenere l'indebitamento e cogliere i segnali di allarme. Quali sono i due messaggi che vorremmo trasmettere in questa e in quelle successive video pillole? Uno, l'adeguato assetto è funzionale non tanto nella fase patologica della crisi, ma nella fase fisiologica durante la vita quotidiana dell'impresa, cioè quello strumento che affianca la genialità produttiva tipica dei nostri imprenditori e che gli consente di tracciare la rotta per raggiungere gli obiettivi, in assenza della quale aumentano sempre di più le incertezze del contesto nel quale si trovano ad operare le imprese. Quindi il primo messaggio è gli adeguati assetti durante la vita delle nostre aziende. Il secondo aspetto è che gli adeguati assetti non sono un ulteriore costo a carico delle imprese, ma sono un'opportunità, un investimento per migliorare la gestione aziendale e affiancarla in maniera efficace ed efficiente alla genialità produttiva dei nostri imprenditori. E insieme al collega e socio di studio dottorale Prandi, nelle successive video pillole abbiamo cercato di dimostrare in termini operativi, pratici e richiamando anche il software valore 24, prevenzione crisi, come effettivamente questi strumenti possono aiutare i nostri imprenditori a prevenire situazioni di difficoltà. Vi ringraziamo per questa breve video pillola, con il dottor Acciaro ci rivediamo all'ultima pillola e con me e il dottor Ariprandi in quella successiva. Grazie a tutti. Saluti, grazie.